wow sembrate stare in un posto incantato mi chiamo sofia ho 22 anni voglio partecipare a questo programma perché mi piacerebbe incontrare la persona giusta buongiorno signorina benvenuta posso fare una videochiamata alla mamma oi ma 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 hanno portato in un posto incantato un po lunghe fa tutto strano e manco so come emozionata curiosa soprattutto mi sento proprio come una principessina altri tempi che trasforma al pieno ti piaccio come parla mi sento molto diversa senza trucco voglio uno specchio a tutti i costi l'amore lo troveremo si vedrà grazie a tutti grazie a tutti